Amici di Sportface e Spazio Tennis, ben trovati per fare un po' di chiarezza sulla vicenda Yannick Sinner. I punti cardine. Yannick Sinner si separa da Riccardo Piatti e dal team di Riccardo Piatti del Piatti Tennis Center e si affida al 99.9% a Magnus Norman, ex coach di Wawrinka, ex top 10 e grande giocatore, e a Simone Vagnozzi. Non c'è possibilità che qualcuno del team di Piatti, dell'ex team di Sinner, faccia parte del futuro team di Sinner. Questo è un punto focale da mettere subito lì. È successo che Yannick Sinner ha scelto di cambiare coach, di cambiare team per una serie di ragioni. In Australia è successo qualcosa evidentemente. Già c'erano sale delle avvisaglie nel match con Taro Daniel, quando Sinner si rivolge a Riccardo Piatti dicendo sostanzialmente di stare calmo in maniera abbastanza colorita, come forse ricorderete, sono situazioni di nervosismo ma che a posteriori lasciano capire qualcosa, lasciano intuire qualcosa. Per quanto concerne poi quello che è successo dopo, dopo il match e durante il match, ma soprattutto dopo il match con Stefanos e Tsitsipas, Sinner si è sentito non all'altezza di quello che era il suo avversario, si è sentito tecnicamente non ancora così forte. E questo forse è normale, perché Sinner è migliorato tantissimo dal punto di vista tecnico-tattico, il lavoro fatto con il team di Riccardo Piatti nell'ultimo anno, oltre gli anni precedenti, che ovviamente sono una questione palese, ma nell'ultimo anno dal dritto che sta a variare molto di più, il servizio è cresciuto tantissimo, è stato migliorato tanto soprattutto in alcuni allenamenti all'Isola d'Elba, dove era presente peraltro Simone Vagnozzi, ma mettiamo da parte anche quest'altra situazione. Diciamo miglioramenti come il gioco di volo, come il servizio, come l'avvicinamento, avvicinamento a rete, la scelta della palla da attaccare verso la rete, tanti miglioramenti, ma Sinner non si è sentito così tanto migliorato da poter competere con i migliori per arrivare in fondo agli slam. È un classe 2001, ma già sente di poter arrivare a quel livello lì. Da un certo punto di vista forse è sbagliato, perché la crescita deve essere costante, deve essere una crescita che arriva con il lavoro. Parliamo di un talento, sicuramente, ma parliamo di un giocatore che deve fare la propria esperienza, anche affrontare delle sconfitte per poter crescere. Dall'altra, probabilmente il fatto che Riccardo Piatti ne parlasse come di un futuro campione, cosa sacrosanta per tutti, ma che potesse raggiungere grandi risultati a breve termine, ha fatto sì che anche Sinner si convincesse di questo. Probabilmente non era invece ancora pronto. Quindi, in questo caso, forse si potrebbero dividere quelle che possiamo chiamare colpe, anche se parliamo di un ragazzo che sta ottenendo dei risultati straordinari ed è un classe 2001, lo ripetiamo ancora. Ogelia Sim, per dire, ha appena vinto il suo primo titolo ed è un classe 2000, e anche lui è un giocatore in grandissima crescita che ha avuto bisogno, però, di tempo per una propria evoluzione. Il cambiamento di coach. Il cambio di coach che probabilmente è arrivato per varie ragioni. Una, appunto, quella di cui stiamo parlando. Poi c'è un discorso di programmazione, anche su cui spesso non erano d'accordo. Ecco, perché va fatta una premessa. Yannick Sinner, avendo vissuto il circuito in questi due anni, è cresciuto tanto come persona, come essere umano. Il circuito ti porta a maturare 5-6 anni in uno, in un certo senso. È molto più maturo di quanto non possano essere ragazzi coetanei che fanno una vita completamente diversa da quella di Yannick Sinner. Una programmazione che per Riccardo Piatti voleva dire preparazione invernale, Australia, preparazione di nuovo, Coppa Davis contro la Slovacchia, India Wells e Miami. Mentre, diciamo, il Sinner è una parte dell'entourage, adesso arriveremo anche al discorso d'entourage, e degli agenti ha spinto più per giocare. E in particolar modo Dubai, che è un torneo che infatti andrà a giocare Sinner, probabilmente proprio con Norman e Bagnozzi. Con Bagnozzi, come avrete letto, si sta allenando in questi giorni proprio a Monte Carlo. Quindi, ricapitoliamo, discorso programmazione, discorso legato alle migliorie che non sono arrivate, come Sinner probabilmente si aspettava. Qui andrebbe aperta una parentesi, nel senso che Sinner nel match con Sissi Pass, lui pensava di poter vincere, di poter giocare alla pari, deve prendersi anche delle proprie responsabilità, perché è evidente che il giocatore poi che scende in campo. Ecco, il tennista, per fare un paragone con il calcio, è come se fosse presidente e giocatore allo stesso tempo, perché è di fatto così, è lui che va a scegliere il coach, è lui che va a pagare il coach e tutto il suo team, quindi a stipendiare chi lavora per lui, e allo stesso tempo è evidentemente il giocatore, quindi quello che scende in campo. Da questo punto di vista è bene fare questo parallelo, per capire esattamente quelle che sono le scelte che può fare un presidente tennista, in un certo senso. Un'altra ragione, la terza, era quella di inserire qualcuno all'interno del proprio team. Pare che Sinner volesse inserire anche Magnozzi, già prima, coach che potesse seguirlo nei tornei, un po' come ha fatto Volpini precedentemente, lo ricorderete, e anche Brandi in parte, nel team di Riccardo Piatti. Si è scelto anche di investire, questo prima della separazione, prima del divorzio, su un super coach. Sono stati sondati i vari potenziali super coach, non se ne è parlato nelle conferenze stampa australiane, in cui Sinner ha detto, non vi dico ancora nulla, quando sapremo il nome lo comunicherò, e comunicherò a quel punto anche quali saranno i lavori che, a nostro avviso, con un super coach potranno farmi migliorare tecnicamente, praticamente, mentalmente, e tutto quello che ne consegue. I nomi di questi super coach, era stato sondato Michael Tilstrom, era stato sondato Sergi Brughera, Ivan Ljubicic, Franco Davin, nomi, ovviamente, molto, molto importanti. La scelta era ricaduta, però, anche John McElon, la scelta era ricaduta, però, su Boris Becker, che doveva essere il super coach, e qui, ovviamente, citiamo anche Roberto Lellolivo, che poi, di fatto, è stato il primo a scriverlo, qualche tempo fa, del fatto che fosse proprio Boris Becker, la scelta di Piatti Tennis Center, su Yannick Sinner. Altre ragioni? Probabilmente una quarta ragione è legata ad alcune interviste che non sono piaciute particolarmente a Sinner, rilasciate da Riccardo Piatti, che ha parlato di questioni che Sinner voleva tenere, probabilmente, per sé. Anche qui sono tutte cose superabili, e quindi noi stiamo citando cose che sono accadute, che poi, tutte sommate, hanno portato a questa separazione. Yannick Sinner è legato alla Star Wing, come solidarietà di management, guidata da Lorenz Francopan, peraltro croato con madre svedese, e adesso arriviamo anche a questo punto, perché è legato a Magnus Norman, è probabilmente la scelta di Francopan, e supponiamo anche di Alex Vittor, che è da sempre un consigliere, diciamo, di Yannick, lo conosce quando sono piccoli. Vittor è un ex giocatore, è stato 600 del mondo, dell'età di Andreas Seppi, conosce benissimo anche Simone Vagnozzi, ecco Simone Vagnozzi è andato da giovanissimo, da Ascoli Piceno a Caldaro per allenarsi con Max Sartori, è cresciuto con Max Sartori, e ha acquisito delle conoscenze con Sartori a livello di coaching molto importanti. Peraltro Vagnozzi è uno che, anche quando giocava, è stato poco fuori nei primi cento, diciamo che il fisico non ha aiutato, da quel punto di vista, perché era abbastanza minuto, ma giocava molto bene. Vagnozzi è uno che non giocava tanto a FIFA, quando era ragazzino, ma giocava già a Football Manager, questo per farvi capire che era uno già improntato al tipo di vita da coach, più che quello da giocatore, e a livello di coaching vi assicuro è molto molto bravo, questo a prescindere da quello che si possa pensare sulle scelte di Sinner in base alla separazione con Piatti. Giusto o sbagliato? Vagnozzi è un ottimo coach, ovviamente è un grande coach Magnus Norman, che ha allenato, come ricorderete, Stan Wawrinka, ex top ten, ha vinto Roma, ha fatto finale a Parigi, insomma un grande giocatore, peraltro lo ricordiamo anche in quel match del 98 di Davis a Milano, con Gaudenzi che si distrugge la spalla sul sei pari al quinto set, quello ricordo un po' meno bello di Magnus Norman, comunque insomma vinse quella Coppa Davis, anche Norman ovviamente con la Svezia. Sa di fatto che possiamo parlare di tutto, di chi potrebbe aver ragione, chi potrebbe aver torto rispetto a questa scelta, le motivazioni, ma se un rapporto si rompe, non si può fare altro che cambiare, è così in tutti gli sport. Dispiace ovviamente perché sembrava una storia importante tra un coach e un giocatore che poteva arrivare a conquistare grandissimi risultati, probabilmente le chance rimarranno assolutamente intatte, però insomma adesso si parla di nuovo team. Nuovo team abbiamo detto Magnus Norman, abbiamo detto Simone Vagnozzi, c'è la possibilità che il preparatore fisico sia Umberto Ferrara, che ricorderete anche al seguito di Marco Cecchinato con Simone Vagnozzi quando è arrivato in semifinale a Parigi, poi Cecchinato non è che abbia fatto solo semifinale a Parigi quando era sotto Vagnozzi, perché ha vinto un mago, ha vinto un Buenos Aires, dominando Schwarzman in finale, tanto per dire. Quindi insomma non è che siano stati soltanto quelli i risultati. Il fisioterapista dovrebbe essere Stefan Duell, fisioterapista che è stato al seguito di Stan Wawrinka. Questa è la situazione generale, con tante notizie, tanti piccoli dettagli che possiamo aggiungere, di fatto però, come dicevamo, la scelta di Sinner è di un qualcuno che non si sentiva più nel posto giusto. Questo scopriremo in seguito, in futuro, se sarà stata una giusta visione delle cose o meno. Di certo c'è che Yannick Sinner adesso andrà comunque supportato, ha scelto un team comunque importante che al 99,9% sarà quello che vi abbiamo raccontato e vedremo già a Dubai quello che accadrà. C'è grande curiosità e ovviamente tutto questo non vuol dire che Piatti abbia sbagliato qualcosa a livello di lavoro svolto, semplicemente si è rotto il rapporto e speriamo che Riccardo Piatti possa prendere in futuro, anche a breve, speriamo qualcuno di giovane da portare in alto, come è stato con Sinner e come è stato anche con tanti altri grandi professionisti del circuito ATP. Questo è quanto, vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni quello che accadrà e quando arriveranno le varie ufficialità.